Prestigiosa trasferta per il gruppo sportivo dell'Associazione Artiglieri Valtellina e Valchiaven di Schena in Germania per la 44esima edizione dell'International Shooting Competition, gara di tiro militare con 300 partecipanti provenienti da tutte le nazioni della Nato. Nove i rappresentanti del nostro territorio che hanno raccolto l'invito arrivato dall'Andes Commando Baden-Württemberg, organizzatore della competizione insieme all'esercito tedesco che ha messo a disposizione le armi per le prove, il fucile d'assalto G36, la mitragliatrice MG3 e la pistola P8. Completa la gara la simulazione del lancio di una bomba. Ottimi i risultati degli artiglieri che hanno registrato il miglior piazzamento degli italiani in gara grazie a Andrea Andreossi di Ponte in Valtellina, undicesimo assoluto, mentre da segnalare il 37esimo posto dell'esordiente Camillo Pizio di Villa di Tirano. Lo spirito di squadra della sezione della provincia di Sondrio è stato premiato con la consegna di un campanaccio in bronzo che viene lasciato in custodia per un anno alla formazione che più si è distinta per disponibilità e fratellanza nei confronti delle altre sezioni. Sulla cinghia del campanaccio ora verrà immortalato il nome della Valtellina, una esperienza indimenticabile per il presidente Emanuele Barini che sottolinea il valore sportivo e di formazione di competizioni come questa, capaci di creare un legame d'amicizia che presto porterà nel nostro territorio alcuni dei partecipanti curiosi di scoprire la bellezza delle nostre valli e della nostra cucina. Unico neo della trasferta, cavallo del primo, fine settimana di luglio, aver dovuto seguire la partita Italia-Germania in campo nemico.